All'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi si riprende a volare. In giornata il decollo del primo aereo del nuovo corso all'Italia. Dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi al Grand Hotel Salerno dei nuovi voli all'Italia dallo scalo di Ponte Cagnano, in giornata la pista dell'aeroporto salenitano ha visto decollare il primo aereo dopo mesi di chiusura. Già oggi sulla pista del Salerno-Costa d'Amalfi è giunto infatti il turboelica Dornier 328 da 30 posti con l'Iverea Air Alps, la compagnia regionale che svolgerà il servizio di collegamento con Milano-Malpense e Roma-Fiumicino per conto di Alitalia. Tutto questo in attesa che nei prossimi mesi, anche a fronte di un previsto aumento della richiesta, entrino in esercizio i Saab 2000 da 50 posti. Per la verità al momento la prevendita è stata fin troppo timida, effetto forse di una campagna di comunicazione soprattutto tra gli operatori del settore, tour operators ed agenzie di viaggio che non è entrata ancora nel vivo. Intanto l'aeroporto di Ponte Cagnano è destinato ad aumentare la sua attività con l'arrivo della primavera. Gli accordi sottoscritti circa un mese fa dalla Camera di Commercio di Salerno con la consorella Italo-Slovacca sta dando i suoi primi effetti. I tour operators Satur e FIFO hanno inserito nei loro cataloghi alcune località e le relative strutture ricettive turistiche. Inseriti nei cataloghi anche la possibilità di atterrare all'aeroporto di Salerno con i voli charter uno dalla capitale Bratislava e uno dalla località di Kosice, la seconda città più importante della Slovacchia.